Questi che vedete sono i bonus che ho ricevuto da questa applicazione senza alcun deposito. In realtà non sono stato molto fortunato come molti molti di voi che hanno ricevuto veramente 3000 dollari. E come già avete potuto capire per ricevere questo bonus non c'è bisogno di alcun deposito. Infatti ho deciso di realizzare un video nel quale vi spiego come funziona questa applicazione e come utilizzarla sia per ricevere il bonus gratuito senza alcun deposito sia nel caso in cui invece volete utilizzare l'applicazione proprio per investire e guadagnare perché ha delle funzioni davvero interessanti. Ciao amico Cryptomene e benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci io sono Salvatore e ti aiuterò a capire sempre di più del mondo delle criptovalute. Prima di iniziare lascia subito un like a questo video per supportarmi come sempre. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale per non perderti i nuovi contenuti. Adesso iniziamo. Per aiutare tutti voi a ricevere questo bonus e a capire come fare per ricevere fino a 3000 dollari ho deciso di realizzare una mini guida che vi faccio vedere adesso ma che vi lascio qua nel link in descrizione. La trovate sul mio canale Telegram nel link che trovate in descrizione. La guida e la procedura è davvero facile. Ovviamente il bonus è fino a 3000 dollari non sarà per forza di 3000 dollari. Il minimo che riceverete è 3 dollari. Vi ricordo che come vi ho anticipato non dovete fare alcun deposito. Innanzitutto i requisiti per ricevere il bonus è ovviamente avere 18 anni compiuti, la verifica dei documenti che si fa sull'applicazione in pochissimi secondi e non dovete fare appunto nessun deposito. Quindi una volta scaricata l'applicazione e fatta la verifica dovete soltanto aspettare. La guida è davvero semplice. Innanzitutto scaricate dall'applicazione cliccando sul link ovviamente che trovate all'interno di questa guida. Mi raccomando ragazzi se vi registrate direttamente dal sito dell'applicazione non riceverete il bonus perché c'è bisogno appunto di un codice. Una volta scaricata l'app andare su sign up quindi fate la solita registrazione continuando semplicemente con Google quindi utilizzerete Google per fare la registrazione. Importante nella pagina successiva vi chiederà di incollare un codice quindi I have a promo code copiate e incollate il codice che è questo qua che trovate nel post se andate su Telegram potete cliccare sopra e copiarlo in automatico dopodiché lo inserite se non lo fate ovviamente non riceverete il bonus perché c'è bisogno per forza di un codice. Vi verranno fatte delle domande tipo finanziario nella pagina affiliation cliccate su non of the apply inserite poi nome e cognome nella sezione signatura accettate termini e condizioni e caricate i documenti per la verifica. Dopo la verifica riceverete il bonus. Inviate tutti i vostri amici, parenti, genitori eccetera per ricevere altri bonus fino a 3000 dollari. Infatti ragazzi oltre i bonus che riceverete per ogni amico invitato che sia parente o amico o chiunque esso sia avete la possibilità di ricevere voi e anche il vostro amico invitato un ulteriore bonus quindi voi riceverete ovviamente il bonus quando vi registrate è un bonus ulteriore per ogni amico che inviterete avendo la possibilità di ricevere sempre fino a 3000 dollari per ogni volta. Detto questo adesso voglio parlarvi dell'applicazione, di come si utilizza e di quali sono le funzionalità una volta entrati e fatta la verifica vi ritroverete in questa schermata nel quale avete la possibilità di utilizzare due metodi per guadagnare il primo si chiama Flagship Crypto che vi permette di guadagnare il 7% questa applicazione o meglio questo metodo utilizza la stablecoin di Sperax USD che è la stablecoin di riferimento di Streetbit che è appunto l'applicazione che stiamo utilizzando e ovviamente questo ci permette di ricevere degli interessi fino al 7% annuale se deteniamo ovviamente la stablecoin il bonus sarà pagato nella stessa appunto la stablecoin potrete decidere di prelevarlo ovviamente se decidete di prelevare il bonus che riceverete nel primo prelevo però c'è una commissione di 9 dollari quindi ovviamente se riceverete un bonus davvero piccolo a quel punto avrà senso accumulare altri bonus prima di prelevare quindi vi ricordo che i bonus li riceverete pagati appunto in questa sezione poi potete decidere adesso li ho prelevati quindi non ho nulla da prelevare ma quando li riceverete andando in questa sezione avete la possibilità di fare withdraw e prelevarli nel saldo normale quindi nel diciamo nel wallet normale poi c'è un'altra possibilità di investimento perché questa applicazione dà appunto la possibilità di investire sia in azioni sia in criptovalute l'altro metodo di guadagno si chiama flagship stocks ed utilizza un algoritmo intelligente quindi un sistema di trading automatico che permette di guadagnare fino al 25% annuale ovviamente questa è una stima di un po' di quello che riesce a fare questo algoritmo poi ci è spiegato appunto come funziona c'è anche una performance dal 2 gennaio 2019 ad oggi ovviamente questa performance non significa che sarà rispettata per sempre nel tempo ma comunque ha realizzato un guadagno molto più alto di quello dell'S&P 500 dal 2019 dal 2 gennaio 2019 ad oggi e quindi sta performando davvero bene e ovviamente con tutti i rischi dovuti è possibile utilizzare questa sorta di investimento automatico per avere questi rendimenti ovviamente sono i rendimenti fatti su investimenti in stock quindi in azioni in alto a destra troviamo la sezione per invitare un amico refer a friend ovviamente gli invierete quel codice che vedete al vostro amico e invierete magari il link quindi fate su share my referral link e se il vostro amico si iscriverà e farà la verifica ovviamente dei documenti una volta effettuata la verifica riceverete il bonus quindi andate nella sezione setting inviti e dovrete fare il claim ovviamente che vi comparirà soltanto se il vostro amico sarà appunto verificato io adesso vi faccio un esempio clicco su claim il bonus sarà accreditato adesso dovrebbe comparire una schermata che mi dice appunto che il bonus è stato ricevuto aspettiamo qualche secondo per vedere se compare ovviamente nel frattempo può anche succedere eccolo qua ho appena ricevuto 10 dollari in stable coin quindi il referral bonus ricevuto vi comparirà questa schermata andate sul flagship crypto come vi ho mostrato ovviamente e avrete la possibilità di prelevarli adesso non mi sono state ancora accreditati dovete aspettare giusto qualche minuto non abbiate paura se il bonus non vi viene accreditato subito anche dopo aver fatto la procedura ci vogliono magari due giorni lavorativi entro due giorni lavorativi questo equivale anche per i vostri amici anche se di solito eccolo qua adesso mi è stato accreditato come possiamo vedere ci sono i 10 dollari più altri 3 dollari di un bonus precedente possiamo fare se li lasciamo in questa sezione ovviamente questi produrranno un guadagno del 7% circa altrimenti facciamo su withdraw clicchiamo all e possiamo prelevarli e toglierli da questa funzione per prelevarli poi magari sulla nostra carta sul nostro conto corrente poi c'è la funzione trade nel quale possiamo andare ad investire quelli che sono i nostri soldi in questo caso io attualmente ho zero investito ma ho un buying power di 132 dollari quindi un potere di acquisto di 132 dollari nelle favorite e nelle popolari ci sono tutte le azioni diciamo più conosciute Apple, Tesla, Microsoft, Netflix, Amazon ad esempio ma andando su search possiamo trovare anche delle criptovalute quindi Bitcoin ad esempio andiamo a cercare troviamo Bitcoin e possiamo appunto decidere di investire anche in criptovalute quindi Bitcoin, Ethereum le più famose ci sono anche se non ci sono tutte infine c'è la sezione wallet sul quale possiamo appunto depositare o prelevare i nostri soldi e avere la lista ovviamente dei bonus ricevuti cliccando su deposit possiamo avere i dati per fare il bonifico mentre cliccando su direct transfer possiamo utilizzare magari delle applicazioni come Revolute, Poste, Unicredit, N26 e inviare e fare il nostro deposito mentre se andiamo a cliccare su withdraw avremo la possibilità ovviamente pagando 9 dollari di fee di prelevare i nostri soldi ovviamente il bonus non è prelevabile subito ma bisogna aspettare 14 giorni personalmente ho deciso che vorrei testare il flagship stock quell'algoritmo di cui vi ho parlato dell'applicazione che permette di ricevere fino al 25% di interessi di guadagno ovviamente voglio fare un test per vedere effettivamente che cosa riuscirò a guadagnare se riuscirò a guadagnare quindi se volete vedere i risultati e volete che provo questo strumento per voi fatemelo sapere qua nei commenti e ovviamente ragazzi vi ricordo come sempre di supportarmi quindi di lasciare like al video per farlo arrivare quante più persone possibili fatemi sapere nei commenti che bonus ricevete se riuscite a ricevere 3000 dollari molti mi hanno contattato e sono stati fortunati ovviamente ci tengo a precisare che non tutti riceverete 3000 dollari anzi molti pochi di voi lo riceveranno riusciranno a ricevere appunto 3000 dollari la maggior parte ne riceveranno 3 ovviamente il tutto non ha nessun costo quindi magari vale la pena tentare invitare amici e parenti e cercare ricevere quanti più bonus possibili quindi ricordatevi di farmi sapere nei commenti se siete fortunati o se magari invece avete ricevuto soltanto 3 dollari per questo video è tutto se vi piace questo genere di contenuti e magari volete conoscere altri bonus altre piattaforme fatemelo sapere sempre nei commenti lasciate like al video iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social se ancora non lo avete fatto